Salve, noi siamo qui a Delft e abbiamo visto lo spettacolo di Giambino ed è doppio, ci siamo togliati, ci siamo interessi e l'ultimo è stato veramente bello e produttivo. Mi chiamo Marco Meluso, sono 34 anni che faccio il consulente finanziario, sono sempre stato affascinato dal cervello umano, ho sempre studiato queste cose e ho trovato conferma in Gianvito, è un grande, seguitelo, ciao. Ciao a Lotto, sono la responsabile dell'amministrativa del Dipartimento Medico, lo spettacolo di Gianvito è stato un momento unico, emozionante, veramente meraviglioso. Buongiorno a tutti, sono Cosimo Petronelli, in molti mi chiamano Milo, sono coordinatore regionale di Anato, poi mi sono trasferito in Puglia e ho conosciuto un conterraneo, Gianvito, una sorpresa straordinaria che mi ha invitato a uno spettacolo ieri sera, abbiamo parlato di finanza ma scherzando come si fa con i bambini, concetti difficilissimi da esprimere ma è stato abilissimo renderli semplicissimi, accessibili a tutti, il pubblico vicino a me ha compreso tutto, divertendosi e siamo usciti fuori dal teatro molto più ricchi di quando siamo entrati. Mi chiamo Alma Foti, sono consulente finanziario, ieri ho visto lo spettacolo di Gianvito, pura emozione, credo che non ci siano altre parole per definirlo. Mi chiamo Luigi, ho visto lo spettacolo di Gianvito ed è una vera figata, ve lo consiglio. Sono Bruno Linguanti, sono consulente finanziario, ho visto lo spettacolo di Gianvito, illusione o funzione, realtà o emozione? Mi sono portato tanto dentro, grazie Gianvito. Ho Letizia Presutti e in vita al dente sono il direttore del personale. Ho avuto modo di assistere allo spettacolo di Gianvito e quello che posso dire è che mi ha suscitato emozione, sorpresa e anche riflessione. Sono Claudio Raimondi, sono consulente finanziario, ieri sera ho visto lo spettacolo di Gianvito, straordinario, semplicemente straordinario. Ho saputo darmi delle emozioni che mi hanno toccato questo approfondimento. Grazie Gianvito. Sono Giorgio Radice, direttore commerciale di Vitalden e abbiamo preso Gianvito in occasione della nostra convention. Il risultato è stato molto soddisfacente perché credo che lo spettacolo abbia coniugato non solo i momenti di magia ma abbia raccordato tutti i nostri messaggi più importanti, dalla pianificazione all'ascolto. Quindi è stato un mix di momenti sorprendenti e al tempo stesso ci ha aiutato a riflettere ancora meglio sui nostri valori e le nostre priorità. Grazie.